Il record di sbarchi, 156.000 alla data odierna, sono più di quanti sono arrivati nel 2015 e il mese di ottobre non è ancora finito. Sicuramente supereremo il numero degli arrivi in record del 2014, 170.000. Il governo anziché basare la gestione sulla legalità e sulla deterrenza fa esattamente il contrario, non contrasta la criminalità organizzata, gli scafisti punta ancora tutto sull'accoglienza. Il sistema dell'accoglienza è arrivato a 168.000 migranti, gran parte dei quali si dimostrerà dopo un tempo lunghissimo essere clandestini, solo il 5% di questi ottiene lo status di rifugiato. Mancano le strutture e oggi Alfano minaccia di requisire anche degli appartamenti.